Noi non abbiamo avuto nessun tipo di reazione avversa di nessun grado, né lieve né grave, nessun tipo di reazione avversa di nessun tipo, ripeto ancora. In letteratura al momento ho riportato un caso avvenuto in Alaska di una reazione a legge a medio grave ma che è stata trattata immediatamente senza nessun tipo di problema. Parola del dottor Riccardo Tani, anestesista di Careggi, figura fondamentale in tutta l'emergenza pandemica e anche adesso che il vaccino arriva alla prova dei fatti, l'anestesista infatti è di supporto in questa fase quando si vaccinano grandi gruppi come in ospedale pronto a intervenire in caso di eventuali reazioni avverse. È questo infatti l'ignoto del vaccino che più spaventa i titubanti, la reazione avversa. Ma posto che la medicina non è una scienza esatta e posto sempre che il vaccino è un farmaco, questa paura, anche man mano che il vaccino si fa strada sempre di più, non ha ragione di essere, spiega sempre l'esperto. Un vaccino è un farmaco e quindi come tutti i farmaci può determinare in alcune persone delle reazioni avverse. Queste non sono diverse se uno fa per la prima volta un vaccino o per la prima volta un farmaco, è assolutamente la stessa cosa e per questo motivo noi siamo qui soltanto per il fatto che essendoci un numero alto di persone che tutte insieme fanno per la prima volta una nuova sostanza per loro, va bene, è possibile che possano esserci reazioni avverse e quindi diagnosticarle e trattarle come qualsiasi altra reazione avversa, qualsiasi altro farmaco, cioè quello che facciamo in realtà tutti i giorni noi negli ospedali, il 118 nel territorio eccetera, è una parte dell'attività dei rianimatori.